Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio tutti i link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Ciao a tutti. Le ricerche partono immediatamente. Viene cercata nella zona di Clays e nell'intera Valle del Noce da carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino e fluviale con l'ausilio di unità cinofile, droni ed elicottero. Le forze dell'ordine fanno visita alla sua nuova abitazione di Clays, ma non c'è nessuno. Allargano quindi la ricerca su tutto il territorio delle Valle del Noce. In breve tempo, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e al tracciamento dell'utenza mobile della 31enne, i carabinieri rintracciano la sua auto. Una Volkswagen T-Roc. È parcheggiata in località Mostizzolo, nelle vicinanze del ponte che sovrasta il torrente Noce, nel comune di Cis, al confine con quello di Clays. Nell'auto è rinvenuto anche il cellulare della dottoressa. La donna, però, non è nei paraggi. I genitori che abitano a Forlì sono in ansia, sono stati loro ad avvisare i carabinieri della compagnia di Clays, quando, a inizio marzo, hanno provato a mettersi in contatto con la figlia sul cellulare e non hanno ottenuto risposta. Da giorni al quotidiano Ladige arrivano chiamate di amici e colleghi della dottoressa scomparsa. Essenzialmente sono tutti concordi e dicono, è una persona solare, Sara, c'è qualcosa che non torna in questa storia. Nelle ultime settimane era turbata. Bisogna trovarla. Le ricerche, però, a questo punto vengono sospese e riprendono a giugno. Emerge che, poco prima della scomparsa, Sara aveva comunicato all'azienda sanitaria Trentina la volontà di recedere il contratto di lavoro, che l'aveva portata prima all'ospedale Santa Chiara di Trento e in seguito, da pochi giorni, a quello di Clays. La famiglia di Sara, nel frattempo, non smette di lottare. Vuole ritrovarla e soprattutto vuole capire cosa è accaduto nel reparto di ginecologia del Santa Chiara di Trento. A chi l'ha visto, il caso della dottoressa è stato trattato con un ampio servizio e sono emerse tante testimonianze che riferiscono di una situazione difficile all'interno dell'ospedale. Non lavoriamo in un ambiente sano, ha detto un medico, collega di Sara, che, per paura, ha preferito restare anonimo. Non siamo tranquilli a parlare. Emanuela, la sorella di Sara, ha raccontato. Sara è stata offesa verbalmente, le hanno dato dell'incapace, è stata svilita e umiliata, lasciata per turni interi a non fare nulla. La trentunenne si era trasferita a Clays il 15 novembre 2020, dopo aver vinto il concorso. Il punto nascite di Clays era chiuso e così è stata trasferita al reparto del Santa Chiara di Trento per fare esperienza. Inizialmente ha prestato servizio all'ospedale di Trento, in un reparto, quello di ginecologia, che era stato già sotto riflettori. Il consigliere provinciale di Onda Civica, Filippo De Gasperi, ha spiegato. Da più di due anni la situazione dell'unità operativa di ginecologia è nota agli addetti ai lavori e a chi dovrebbe governare la sanità trentina. L'interrogazione che denunciava la fuga dei professionisti e chiedeva spiegazioni sulle condizioni del reparto è datata 22 gennaio 2019. Negli ultimi anni sarebbero stati almeno 11 i professionisti a lasciare il reparto. Come Claudio Cia, che nel luglio del 2019 parlava di un eccessivo turnover in ginecologia e dopo aver analizzato le timbrature dei medici dal 2015 al 2019, aveva rilevato turni che in molti casi arrivavano a 12-15 ore giornaliere. Il giorno prima della sua scomparsa, il 3 marzo, anche Sara Pedri si dimette. Al telefono con la sorella ha detto «Mi sono tolta un peso importante». La famiglia ha visto per l'ultima volta Sara il 28 febbraio, l'ultimo giorno della 31enne a Forlì. La donna era apparsa turbata, nervosa e aveva perso 7 chili. Non tornava a casa da fine novembre. In mezzo ci sono state la seconda e la terza ondata di Covid. La donna aveva preferito non vedere i familiari per timore di contagiarli lavorando in ospedale. Solo nelle ultime settimane prima della scomparsa era stata trasferita all'ospedale di Clays. Il direttore sanitario dell'ospedale ha affermato che Sara ha avuto un colloquio con il primario di Clays, che era molto dispiaciuto per queste sue dimissioni volontarie. Dopodiché non abbiamo più avuto notizie. Come atti oggettivi non abbiamo lettere o segnalazioni, però, ripeto, siccome è una vicenda pesante che riguarda il reparto, abbiamo intenzione di approfondire ulteriormente. Oltre al consigliere Filippo De Gasperi, anche la consigliera Lucia Coppola ha chiesto alla Giunta di fare chiarezza e pone un interrogativo. È vero che sono stati avviati dei contenziosi a carico del dirigente del reparto di ginecologia? Intanto, dopo mesi di dolore indicibile, Emanuela Pedri, sorella di Sara, ha trovato la forza di ricacciare indietro le lacrime e puntare i riflettori su questa drammatica vicenda, partecipando a un'intervista. Emanuela, come stava tua sorella negli ultimi tempi? Risposta. Era paralizzata dal terrore e la mattina si svegliava con l'ansia perché non voleva andare in quel posto lì, il reparto di ginecologia. Mia sorella ha avuto un'involuzione che si è verificata a livello lavorativo e non personale, perché ha un fidanzato e una famiglia che la amano. Le sue colleghe ci hanno segnalato le stesse cose che ci ha raccontato lei, turni di lavoro massacranti, abusi di potere, minacce continue. Domanda. Da quali segnali aveva percepito il suo malessere? Noi abbiamo visto pochissimo Sara nei tre mesi e mezzo in cui è stata a Trento perché sono riuscita a portarla a casa solo l'ultima settimana di febbraio, quando ho realizzato davvero quello che stava vivendo, anche se mi ero già resa conto che c'era una difficoltà importante, perché ci sentivamo spesso. Lei ha sempre avuto un tono di voce molto squillante e ha iniziato a sussurrare. Non dormiva la notte, non mangiava più. Altra domanda. E quando poi Sara è rientrata a Forlì? Sara era abituata ai cambiamenti, alla distanza e alla solitudine. Aveva vissuto il primo lockdown a Catanzaro, dove stava seguendo la specializzazione. Era vivace e sempre attiva. Ha raggiunto obiettivi importanti senza mai lamentarsi. Quando è tornata a casa a fine febbraio abbiamo visto una persona deperita, con il viso scarno, era paralizzata dal terrore, tremava, si mangiava le unghie fino alla pelle, aveva l'orticaria. Io sono convinta che mia sorella si sia ammalata di burnout. Urla, pianti e terrore. Le sue colleghe sono state la maggiore e la migliore testimonianza. Anche loro sono vittime di un incubo. Ricordiamo che non era previsto che Sara iniziasse a lavorare a Trento, a metà novembre. Emanuela, infatti, continua. Sarebbe dovuta entrare in servizio a Claes, dove aveva preso in affitto un appartamento vicino all'ospedale. Ma è stata invece mandata a Trento senza preavviso. Doveva fare tutti i giorni 40 minuti di auto all'andata e altri 40 al ritorno. Si alzava alle 6 di mattina e rientrava spesso alle 9 di sera. Questo aveva causato una prima destabilizzazione. Quando finalmente Sara ha presentato il certificato di malattia con diagnosi, calo ponderale per stress da lavoro, forzata da noi perché lei aveva paura di venire licenziata, è stata spostata a Claes dopo tre mesi che lo chiedeva. Altra domanda. Il fatto che avesse dato le dimissioni porterebbe a pensare che avesse trovato la forza di chiudere quel capitolo? Risposta. No, perché lei vedeva queste dimissioni come una sconfitta. Infatti non le ha inviate mentre era qui a casa, dove tutti l'avevano invitata a farlo, ma le ha presentate quando è tornata là da sola. Lei si vergognava, non vedeva più un futuro dopo le dimissioni. Ma oggi non c'è più una ragazza che si è dimessa, c'è una ragazza che è scomparsa. Altra domanda. Pensate all'ipotesi di un gesto estremo? Risposta. Finché non viene trovata è una persona scomparsa, allora io chiedo, una ragazza che scompare improvvisamente da una famiglia che amava, non fa riflettere? Noi familiari pensiamo a un gesto estremo perché abbiamo visto come stava, ci è bastata una sola settimana. Mi sono trovata di fronte a una persona che non era più mia sorella. Ultima domanda. Qual è il vostro obiettivo oggi? Risposta. Noi non vogliamo una vendetta, ma cerchiamo risposte. È un diritto riceverle, è un dovere chiederle. Oggi la procura sta indagando, i dirigenti aziendali e i politici si stanno muovendo, i media ne parlano. Questa è già di per sé una vittoria. Non ho paura di parlare e spero di essere ascoltata. Io parto da qui, poi vediamo chi mi segue. Sul quotidiano l'Adige è stata pubblicata la testimonianza di un'ostetrica. Incutono timore, minacciano licenziamento, umiliano, lo fanno per avere il rispetto del personale. Sono passati anni e la cicatrice è ancora aperta. La donna che oggi lavora in un'altra struttura ha deciso di raccontare la sua esperienza in forma anonima per mostrare vicinanza alla famiglia di Sara. Sul clima contestato il primario rimanda all'azienda la risposta, difendendo il suo operato e la sua professionalità. Ma sottolinea, sarò contento quando potrò parlare perché non ritengo giusto ricevere certe accuse sul proprio gruppo di persone seguite da dieci anni. Parlino pure anche i testimoni interni, ma io difendo il mio gruppo di lavoro e saranno loro a dare la loro versione dei fatti sul clima che davvero si respira. Sommozzatori, esperti di kayak, motovedette, con ecoscandaglio sonar, unità cinofile e piloti di droni, in Val di Non proseguono con un massiccio impiego di uomini e tecnologie, le ricerche di Sara Pedri. La scomparsa di Sara e le accuse rivolte dalla famiglia al reparto dove lavorava sono fonte di apprensione anche per l'ordine dei medici di Trento. Il presidente Marco Ioppi confida. Siamo molto preoccupati sia perché temiamo il peggio per la dottoressa, sia perché non vorremmo che venga compromesso il servizio alla popolazione di un reparto che ha sempre assicurato il massimo. Le difficoltà che sono state segnalate non giungono nuove all'orecchio di Ioppi. Ne avevamo sentore, pur in assenza di testimonianze dirette finora. E ci eravamo attivati nella misura in cui può fare l'ordine. Prima però di ritenere che ci sia un rapporto di causalità tra la gestione del reparto e la scomparsa della dottoressa Pedri, di cui siamo profondamente addolorati, aspettiamo i risultati dell'inchiesta della magistratura e di quella della commissione istituita dall'azienda. Proseguono le indagini degli inquirenti, come confermato dal procuratore della Repubblica di Trento, Sandro Raimondi. Nello specifico è stato aperto un provvedimento modello 45, vale a dire un fascicolo senza notizia di reato. Sul caso intervengono con una nota congiunta anche l'ordine delle professioni infermieristiche e l'ordine delle professioni di ostetricia della provincia di Trento, chiedendo di tutelare il benessere dei professionisti nei percorsi di assistenza alle donne e ai neonati. Anche se non è facile esporsi in una situazione simile, alcuni dei sanitari in servizio al reparto di ginecologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento hanno deciso di parlare, protetti però dall'anonimato. In sala operatoria c'erano ferri chirurgici che volavano verso le persone anche per uno o nulla. Ginecologi che erano bravi venivano allontanati dalla sala operatoria. Ti fanno sentire una nullità, cercano di trovare lo sbaglio anche se non c'è pur di metterti in crisi. È il momento di parlare perché non ci sia un'altra Sara. Sul caso si sono espressi anche i sindacati della provincia di Trento, accendendo i riflettori su un problema tanto diffuso quanto sommerso, anche nell'ambito delle aziende sanitarie, il mobbing e il dimansionamento. Le due sigle sindacali rilevano che gli sportelli deputati a raccogliere le denunce di queste problematiche lavorative vengono utilizzati in maniera del tutto marginale, con il risultato che i medici preferiscono andarsene, ben undici dimissioni e non di certo per pensionamento, nell'arco di due anni nel reparto di ginecologia e ostetricia di Trento. Ragazzi, undici dimissioni nell'arco di due anni? Sono tante, troppe. Io mi chiedo perché si è aspettato così tanto. Anche perché poi sentirete da dove arrivano i primi abusi di potere e non sono iniziate di certo nel 2022, ma procediamo. Un turnover significativo su cui alcuni consiglieri provinciali hanno interrogato le istituzioni e rispetto al quale il primario Saverio Tateo ha dichiarato che l'azienda entrerà nel merito, sarò felice di parlare quando potrò farlo. Il direttore generale Pier Paolo Bentollo ha riferito che Gli approfondimenti effettuati nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa della dottoressa non avevano evidenziato possibili collegamenti. A seguito degli elementi ora riferiti è stata costituita una commissione ad hoc che raccoglierà eventuali ulteriori informazioni su fatti precisi. Il telefono e il computer di Sara intanto sono al vaglio degli inquirenti che hanno acquisito anche i tabulati telefonici. La commissione ritiene opportuno effettuare un'audizione di tutto il personale dell'unità operativa. Già oggi sono partiti i primi inviti a colloquio, a quali ne seguiranno altri nei giorni successivi. Il direttore dell'unità operativa di ginecologia ha concordato di utilizzare un periodo di ferie arretrate e non godute per agevolare il lavoro della commissione che, si assicura, procederà con speditezza e massima trasparenza. Saverio Tateo, primario del riparto di ginecologia dell'ospedale Santa Chiera di Trento, viene messo a riposo quindi. È il primo risultato della commissione di indagine istituita per delle verifiche interne sul caso di Sara Pedri. C'era un sistema punitivo e le persone venivano insultate davanti ai colleghi. Ho deciso di andarmene perché non ce la facevo più. Tornavo a casa tutti i giorni in lacrime e con il mal di stomaco. Alice, che è un nome di fantasia, è un'ostetrica che ha lavorato al reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Santa Chiara di Trento, quello in cui lavorava Sara Pedri. Anche lei, come altre e altri professionisti, si è dimessa per il clima che si respirava il reparto e per le pressioni che riceveva. Vi leggo un'intervista che è stata fatta proprio a questa ragazza. Domanda. Alice, in relazione alla scomparsa di Sara Pedri, si è parlato insistentemente delle condizioni di lavoro nel reparto di ginecologia e ostetricia. Qual è stata la sua esperienza? Risposta. Io faccio l'ostetrica da quasi 20 anni e sono sempre andata in ospedale con molto entusiasmo. Ma dopo il cambio al vertice del reparto, il clima era completamente cambiato. Andavo a lavorare con l'ansia di avere sempre qualcuno che mi osservava e soprattutto mi giudicava. C'era un regime dittatoriale, fatto di punizioni e ricatti, che mi ha distrutto. Medici bravissimi se ne sono andati da un giorno all'altro. Altra domanda. Non si potrebbe obiettare che un certo carico di stress è normale in un ambiente lavorativo? C'è una componente di stress benigno, per così dire, che consente di mantenere alta l'attenzione, anche perché noi lavoriamo in un campo molto delicato, che è quello materno-infantile. Facevamo turni lunghi e seguivamo anche patologie complesse, essendo il centro più grande della provincia di Trento. Però non è facile stare in un ambiente di lavoro in cui hai intorno persone che non ti supportano e anzi, se possono, ti mettono i bastoni tra le ruote. Ti fanno sentire sempre inadeguata e ciò che fai non va mai bene. Lavorare in questo modo non è assolutamente sano. Altra domanda. Aveva trovato sostegno da parte delle colleghe? Risposta. Tra ostetriche sì, però eravamo arrivati a un punto in cui non si sapeva più di chi ci si poteva fidare. Se ti lamentavi per qualcosa, poteva essere che la voce arrivasse a responsabili. Altra domanda. Non ho pensato di fare una segnalazione? Io ho scelto di andarmene, perché quello che si diceva era che non sarebbe cambiato nulla. Ero più giovane e ho sbagliato, perché se tutti denunciassero, forse le cose sarebbero diverse. Se il gruppo è forte e coeso, si riesce a vincere, ma se il gruppo è sgretolato e sei da sola, non è facile andare contro un sistema. Purtroppo si è costretti a scegliere la strada, meno peggio. Altra domanda. È rimasta stupita quando ha letto sui giornali le accuse della famiglia di Sara? Risposta. No, io non conoscevo Sara, ma le cose che ho letto negli articoli succedevano, le abbiamo vissute. È brutto che l'ospedale si trovi sotto una luce negativa, perché ci lavorano bravi professionisti, ostetriche, medici e infermieri. Ma non si può più stare zitti. Mentre la procura di Trento ha aperto un'indagine, i carabinieri di Clays proseguono le ricerche della ragazza, in località Mostizzola dove è stata ritrovata la sua auto con il cellulare, la famiglia della giovane dottoressa denuncia, ai microfoni di chi l'ha visto, il clima di terrore che Sara respirava nell'ambiente di lavoro. Intanto Pierpaolo Benetollo, direttore generale dell'azienda sanitaria, ha ufficializzato l'istituzione di una commissione di indagine interna, avviata in accordo con l'Ordine dei Medici, che ritiene opportuno effettuare un'audizione di tutto il personale dell'unità operativa. Sono partiti i primi inviti a colloquio i quali ne seguiranno altri nei giorni successivi. Vorremmo un occhio esterno che possa andare a capire se ci sono dinamiche patologiche che condizionano l'attività del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Santa Chiara di Trento. Roberta Venturella è stata tra gli insegnanti di Sara Pedri alla scuola di specializzazione all'Università di Catanzaro. Insieme agli altri ex colleghi della ragazza in servizio all'unità operativa di ginecologia all'ospedale pugliese Ciaccio, la professoressa ha deciso di rivolgersi direttamente al ministro della salute Roberto Speranza per chiedere un suo intervento nell'inchiesta sulla vicenda di Sara. Le ostetriche della sala parto e del reparto di ostetricia dell'ospedale Santa Chiara di Trento hanno scritto una lettera al direttore sanitario Antonio Ferro. Chiedono di essere ascoltate tutte. Nella mail indirizzata a Ferro se ne spiegano anche le ragioni. A tutela di tutti e tutte stiamo a chiedervi una modalità di colloquio su appuntamento per tutto il personale ostetrico. Riteniamo che la modalità su base volontaria sia poco tutelante per noi e per l'eventuale esposizione di elementi. Saverio Tateo ricopre il ruolo di direttore dal novembre 2010 quando fu chiamato dall'allora direttore generale reggente Franco De Biasi per sostituire Emilio Arisi, storico primario giunto alla pensione. Dal 2018 gli era stata affidata anche l'area materno-infantile. Prima di arrivare a Trento Tateo aveva diretto la struttura complessa di ginecologia dell'ospedale di Sondrio. Era stato per 17 anni responsabile del reparto di ginecologia e del servizio di ginecologia oncologica all'istituto ricovero e cura a carattere scientifico del Policlinico di San Matteo di Pavia. A Pavia si era anche laureato a pieni voti con l'ode in medicina e chirurgia con specializzazione in ginecologia e ostetricia. Proposta accettata. Questa è la telegrafica risposta di Antonio Ferro, direttore sanitario dell'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento alla lettera scritta dalle 70 ostetriche in servizio a Santa Chiara che chiedono di essere ascoltate tutte sul caso di Sara Pedri. Le audizioni si svolgono nell'ambito dei lavori della commissione interna a seguito delle testimonianze di ostetriche e ginecologhe che hanno lavorato in quel reparto e che hanno denunciato pressioni e umiliazioni. Gli stessi abusi di cui la stessa Sara aveva parlato alla sorella Emanuela. Non ho mai desiderato di togliermi la vita, però ogni volta che andavo a lavorare pregavo Dio di fare un incidente, rompermi le gambe o rimanere paralizzata per restare a casa per sempre. Fa letteralmente venire i brividi questa ennesima testimonianza di una professionista che ha lavorato alla ginecologia del Santa Chiara, lasciata alla trasmissione televisiva a chi l'ha visto, che è tornata nuovamente sul caso di Sara Pedri. La dottoressa continua. Tu non puoi portare il tuo dipendente a questo livello. Ti fanno lavorare per tre, ti ammazzano di lavoro e quando ti ammali ti mandano indisciplinare perché ti sei permesso di metterti in malattia. Il caso Pedri si abbatte sui vertici dell'azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento. Il direttore Pierpaolo Benetollo ha rimesso il mandato nelle mani della giunta provinciale. Lo annuncia il presidente della provincia Maurizio Fugatti al termine dei lavori della giunta. A determinare il passo indietro di Benetollo una delibera che lui stesso ha firmato lo scorso 7 giugno con la quale rinnovava fino al 15 novembre del 2025 l'incarico di direttore dell'unità di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Chiara a Saverio Tateo. Il capo di quel reparto in cui Sara, stando alla ricostruzione dei familiari e delle colleghe, avrebbe vissuto profondo disagio e umiliazioni continue. Dal rinnovo la giunta e l'assessore provinciale della salute Stefania Segnana erano all'oscuro. Non proprio un dettaglio, visto che ora, sul caso Pedri, si sono accesi molti riflettori. Da quello della procura, che ha aperto un'inchiesta affidata alla PM Licia Scagliarini, a quello della commissione interna dell'azienda sanitaria, fino a quello più recente del ministero. Dal 6 all'8 luglio il reparto deve aprire le sue porte agli ispettori inviati dal ministro Roberto Speranza. Lunedì 5 luglio il primario di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Santa Chiara di Trento, Saverio Tateo, al centro della polemica per il clima e il reparto, riprende il servizio dopo il periodo di ferie, deciso all'indomani dell'avvio dei lavori della commissione di inchiesta interna. Una presenza, come dire, un po' ingombrante, almeno secondo Andrea De Bertoli e Andrea Manca, legali cui si sono rivolte 5 ginecologhe attualmente in servizio al reparto. Le dottoresse il 2 luglio hanno scritto all'azienda sanitaria di Trento, all'ordine dei medici e all'assessore provinciale della salute, Stefania Signana, sottolineando l'incompatibilità ambientale di Tateo Incorsia. L'avvocato De Bertolini spiega Della vicenda di Sara si stava già occupando la procura e noi non volevamo entrare in quell'ambito. Quindi abbiamo deciso di muoverci in modo diverso, seppure con determinazione. L'intenzione delle nostre assistite non era certo quella di screditare l'azienda sanitaria, il loro datore di lavoro, verso il quale hanno sempre avuto rispetto garantendo massimo impegno e dedizione. Ma di spiegare la condizione di sofferenza e prostrazione che vivevano, che non era solo di chi se n'era andato, di chi non c'era più in quel reparto, ma anche di chi ci resta. Le 5 infatti hanno cercato in prima battuta un approccio costruttivo. Una di loro ha esposto il problema direttamente al direttore generale Benetollo, ai primi di maggio. Mentre il 12, l'avvocato De Bertolini, ha incontrato direttamente il direttore generale dell'azienda per un lungo colloquio. Benetollo, concludono i legali, seppure ai vertici da meno di un anno, era conoscenza delle criticità del reparto. L'intenzione delle professioniste, prima di ricorrere civilmente o penalmente alle vie legali, per spirito di appartenenza, è stata quella di vedere se l'azienda poteva reagire garantendo il ripristino di un ambiente di lavoro salubre. Ma sembra che questo non sia avvenuto. Stando all'ultimo capitolo di questa saga, Tateo risultava nei turni della settimana. Gli avvocati hanno ritenuto quindi opportuno scrivere all'azienda sanitaria, nella persona del direttore sanitario Antonio Ferro, poiché Benetollo risulta dimissionario. All'ordine dei medici, con cui avevano avuto pure un colloquio informativo nelle precedenti settimane, e all'assessore provinciale segnana, sottolineando l'incompatibilità ambientale del primario in reparto. Nel frattempo i carabinieri continuano le ricerche e, a casa di Sara, trovano una serie di appunti e riflessioni sulla sua esperienza al Santa Chiara. Ossia, L'esperienza a Trento doveva essere formativa, purtroppo ha generato in me un profondo stato d'ansia, a causa del quale sono completamente bloccata e non posso proseguire. È una situazione più grande di me. E ancora. Le mie aspettative sono state deluse. Poi. Sono stata rimbalzata da una mansione all'altra senza un perché. So che comprometto tutto, ma ho bisogno di aiuto. In un passaggio si intravede l'angoscia di non sentirsi all'altezza del proprio incarico. Le competenze che pensavo di aver ottenuto in autonomia non sono adeguate agli standard. Le riflessioni della ragazza sul proprio disagio si fanno sempre più cupe. Con la fretta e la frenesia non si impara, continuano gli scritti. Un chiaro riferimento al clima in ospedale. E poi. Ho cercato di non disattendere mai agli ordini. Ho sempre detto di sì. Finora i risultati ottenuti sono solo terrore. Sono stata addirittura chiamata dal primario perché ho perso troppo peso. Una difficoltà resa più acuta dalla lontananza degli affetti, come la stessa Sara riconosce in un altro passo. Non sono nelle condizioni psichiche di poter continuare. Ho sempre fatto tutto da sola e anche questa volta ho in carico l'esperienza da sola, senza sostegno da parte dei cari che sono lontani. Nel pomeriggio del 6 luglio gli ispettori del Ministero della Salute sono arrivati e si sono messi subito al lavoro. Cominciando con le audizioni del personale sanitario. Trolle in una mano e nell'altra il dossier di Sara Pedri. La ginecologa 31enne, vittima di mobbing, nel reparto di ginecologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento. A fornire la documentazione funzionale ministeriale è stato il Dipartimento Salute della provincia. La struttura, spiega il suo dirigente generale Giancarlo Ruscitti, farà da supporto all'attività degli ispettori. Gli accertamenti da parte dei funzionari ministeriali proseguono il 7 luglio e interessano anche gli altri reparti dell'area materno-infantile, diretti dal primario Saverio Tateo, negli ospedali di Rovereto, Arco Cavalese e Clèz, dove la giovane ginecologa era stata assunta. Terminate le ispezioni sul campo, tornano a Roma e preparano le loro osservazioni da inviare alla provincia. Per verificare se ci sia o meno una correlazione tra la scomparsa di Sara e il suo ex ambiente di lavoro, l'azienda sanitaria Trentina ha aperto anche un'inchiesta interna, nominando una commissione ad hoc coordinata dal direttore sanitario e dirigente del Dipartimento Prevenzione, Antonio Ferro. Il compito è quello di sentire 73 dipendenti tra medici, coordinatori, ostetriche e segretari di reparto. Ma il ministro della Salute, su sollecitazione della senatrice Trentina Donatella Consatti e della ex tutor di Sara dell'ospedale di Catanzaro, ha deciso di fare un'ulteriore ispezione inviando a Trento i suoi funzionari. È stato inoltre consegnato un dossier specifico su Sara Pedri, che potrebbe contenere la tabella degli orari di lavoro tenuti dalla dottoressa nei tre mesi di permanenza a Santa Chiara. È probabile che siano stati inviati anche i file inerenti al concorso vinto dalla 31enne. L'intera documentazione è stata fornita dalla dirigente provinciale Franca Bellotti, responsabile dell'ufficio Formazione e Sviluppo Risorse Umane del Dipartimento Salute. Su specifica richiesta del Ministero, la provincia ha stilato un elenco di circa 200 dipendenti dell'area medico infantile, tutte persone che devono tenersi disponibili per un'eventuale audizione. Sono stati sentiti quasi sicuramente i coordinatori dei vari reparti dell'area, oltre al direttore sanitario Antonio Ferro e il direttore Mario Grattarola, responsabile dell'area Servizi. Si dà per certa anche l'audizione del primario Saverio Tateo. Sovrano illuminato. Inizia così una delle mail che Sara Pedri ha scritto al suo responsabile per annunciargli l'intenzione di lasciare l'incarico di dirigente medico del reparto di ginecologia e ostetricia del Santa Chiara. Quella definizione, sovrano illuminato, ora scattina nuovi pensieri. Qual è il motivo di quell'appellativo? La mail è finita nel faldone dei documenti degli ispettori e del Ministro della Salute che per due giorni hanno acquisito turni e timbrature di entrate e uscita di tutto il personale dell'unità operativa, assieme alla lettera di dimissioni e alle comunicazioni di servizio inviate da Sara Pedri a colleghi e responsabili del reparto. Atti e risultati delle audizioni serviranno agli ispettori per avvalorare o meno le presunte condizioni ambientali difficili all'interno del servizio materno-infantile. Nicodemo Gentile, l'avvocato che rappresenta la sorella e la mamma di Sara Pedri, precisa Qualsiasi sia la conclusione a cui arriveranno gli ispettori, non si può far finta che quel brutto 4 marzo 2021 non ci sia stato. Dalla documentazione emergono fatti oggettivi e una situazione di reparto critica che rendono necessario il trasferimento del direttore dell'ostetricia e ginecologia di Trento ad un'altra unità operativa e di un altro dirigente medico ad alta struttura ospedaliera dell'azienda sanitaria. L'inchiesta condotta dalla Commissione interna all'azienda sanitaria Trentina in seguito alla scomparsa di Sara Pedri si risolve con la rimozione dell'incarico del primario Saverio Tateo e di un secondo responsabile del reparto, Liliana Meru. La Commissione spiega la decisione di trasferire il primario Tateo che andrà all'ospedale di Cavalese con queste parole al fine di tutelare la serenità delle pazienti, di tutti gli operatori coinvolti e a salvaguardia del buon funzionamento del reparto. E aggiunge La Direzione Generale invierà gli atti della Commissione di Indagini all'Ufficio Procedimenti Disciplinari per l'attivazione del relativo ITER. L'unità operativa del Santa Chiara è stata affidata al direttore della struttura complessa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Rovereto che guiderà il reparto a Scavalco. In aggiunta, il Direttore Generale Pierpaolo Benetollo ha confermato la decisione di lasciare il suo ruolo in una lettera inviata il 10 luglio al personale dell'azienda sanitaria. È un lavoro complesso che si può fare solo se si ha serenità d'animo. Forse anche appartengo ad un'altra generazione in cui i sistemi di relazione erano diversi. In piena serenità quindi ritengo sia meglio per l'azienda sanitaria e per me tornare al mio lavoro consueto magari dopo un periodo di ferie di cui ora ho bisogno. Per questo ho riconfermato nei giorni scorsi la mia volontà di dimettermi dall'incarico. Nella stessa lettera il medico difende il proprio operato nella vicenda della giovane ginecologa scomparsa. E dice Per quanto riguarda il caso della dottoressa Sara Pedri e il clima nel reparto di ostetricia ginecologia di Trento La mia scelta è stata fin da subito quella di approfondire i fatti raccogliendo nelle dovute maniere dati e testimonianze per decidere subito dopo sulla base di questi. L'unità del Santa Chiara è stata affidata al direttore della struttura analoga di Rovereto Fabrizio Taddei. Trova dunque un primo riscontro anche nelle istituzioni la posizione da sempre sostenuta dai familiari di Sara che attraverso il legale gentile hanno raccolto una pluralità di dichiarazioni provenienti da soggetti che operavano nella struttura e che descrivevano l'ambiente in cui lavorava Sara come una vera e propria polveriera. L'avvocato commenta È un primo passo importante, un calderone che andava scoperchiato e tra i vari episodi venuti alla luce il legale cita quello in cui Sara venne allontanata dalla sala operatoria e ricevette uno schiaffo sulle mani. Ma ben prima che il caso Pedri scoppiasse i primi di aprile cinque dirigenti e ostietriche cui poi se ne aggiungerà una sesta si erano già rivolte agli avvocati dei Bertolini e Manca denunciando secondo quanto riportato dai legali una situazione insopportabile sotto il profilo umano e professionale un modo superante fatto di vessazioni mortificanti che aveva provocato la diaspora negli ultimi sei anni di 62 dipendenti. Da anni si vive un clima di sofferenza legato ai metodi autoritari di Tateo e Meru atteggiamenti che sono andati inasprendosi dice Marta, anche qui un nome di fantasia ginecologa come Sara Lo ha già raccontato ai PM e alla commissione interna torni sfiancanti, scatti d'ira, umiliazioni che non avrebbero avuto valide ragioni Alcune persone sono state prese di mira e ne è seguito anche un demansionamento la dottoressa prosegue poi La condotta, basata su atteggiamenti spesso vessatori ha creato in me, come in tanti altri, una profonda sofferenza Capitavano anche insulti e minacce a un'infermiera, ho sentito dire io ti rovino e riflettendo sulla collega scomparsa aggiunge Sara ha avuto un impatto complesso con una realtà difficile, diversa da come se l'era immaginata e che non è stata accogliente né protettiva come dovrebbe essere nei confronti di una neospecialista tessere di un puzzle che ora verranno verificate anche in sede giudiziaria Quattro dottoresse hanno già reso la loro versione a procura e ordine dei medici L'avvocato De Bertolini afferma L'esito dell'inchiesta interna non mette la parola fine a questa storia ma è qualcosa di fondamentale stiamo valutando quale tipo di azioni giudiziali intraprendere Marta e altri dipendenti si sfogano Ora si volta pagina ma ci portiamo dietro la sofferenza di questi anni Gli investigatori incaricati dalla PM, Licia Scagliarini hanno consegnato alla procura gli atti dell'inchiesta della commissione interna dell'azienda sanitaria che ha raccolto la testimonianza di circa 110 professionisti tra medici, infermieri e ostetriche A ognuno di loro è stato sottoposto un test a risposta multipla alcuni hanno risposto solo barrando la casella mentre altri hanno allegato anche una sorta di memoriale nel quale hanno raccontato nel dettaglio il clima difficile e pesante all'interno del reparto Alcune professioniste hanno fornito elementi oggettivi che evidenziano gravi criticità e un malcontento generale tra il personale La documentazione viene analizzata con attenzione dalla magistratura che attende anche gli esiti dei lavori della commissione ministeriale Le indagini sulla sparizione di Sara Pedri chiaramente continuano gli investigatori della polizia giudiziaria e della procura proseguono l'attività di analisi dei tabulati e dei messaggi sul cellulare della giovane ginecologa trovato all'interno dell'auto Attraverso queste diciamo che si cerca di ricostruire gli ultimi giorni e le ultime ore prima della scomparsa La chiave del dramma è la lunga lettera di dimissioni inviata da Chiara all'azienda sanitaria il giorno prima di svanire nel nulla Nella missiva di circa tre pagine ha raccontato tutto esprimendo la sua grande sofferenza per le pressioni ricevute sul posto di lavoro Da qui dovrà partire la magistratura per far luce su tutta la vicenda e capire cosa c'è davvero dietro alla scomparsa di Sara Il sospetto dei familiari è che la ginecologa abbia fatto l'estremo gesto esasperata dal clima lavorativo Saverio Tatteo il primario di ginecologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento si è tenuto a margine della vicenda per mesi non rilasciando dichiarazioni nonostante il telefono suonasse continuamente Ora però si fa sentire attraverso i suoi legali Con una nota inviata alla stampa gli avvocati Vincenzo Ferrante e Salvatore Scuto hanno definito il medico vittima di una campagna di diffamazione I legali affermano Abbiamo riscontrato e riscontriamo a tutt'oggi che continuano ad apparire dichiarazioni ed interviste sugli organi di stampa intese indebitamente ad anticipare conclusioni ancora da verificare posto che nulla è stato mai contestato al dottor Tatteo né dall'autorità inquirente né dal proprio datore di lavoro si alimenta così un gravissimo fenomeno di naming and shaming cui è vittima il nostro assistito e contro il quale valuteremo ogni azione giudiziaria necessaria per tutelare la sua reputazione E continuano Scriviamo nell'interesse a tutela del dottor Saverio Tatteo vittima di una campagna mediatica diffamatoria che sulle vase di lazioni, menzogne e strumentalizzazioni ha inteso ed intende mettere in relazione la dolorosa vicenda della scomparsa della dottoressa Sara Pedri con il ruolo e la funzione rivestita dal dottor Tatteo in qualità di direttore dell'unità di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Trento I lavori della commissione interna sono conclusi da qualche giorno Le indagini della magistratura sono in corso L'azienda sanitaria ha deciso di aprire un procedimento disciplinare a carico dell'ex direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Chiara trasferito dopo le indagini dalla commissione interna che ha riscontrato fatti oggettivi e una situazione critica nel reparto che dirigeva Nel frattempo rompe il silenzio anche la dottoressa Liliana Meru l'ex vice direttrice del reparto di ostetricia e ginecologia del Santa Chiara Anche lei chiaramente si esprime tramite i suoi legali che in una lettera inviata agli organi di stampa parlano di processo mediatico e speculazioni prive di qualsivoglia riscontro Il 26 luglio la dottoressa Meru è stata convocata davanti alla commissione dell'ordine dei medici della provincia di Trento che dopo la denuncia di 5 ginecologhe ha dato avvio alle audizioni di alcuni operatori sanitari per verificare il clima all'interno dell'unità di ostetricia reparto in cui la dottoressa ha lavorato come dirigente medico dal 2013 fino al 12 luglio 2021 cioè fino al suo trasferimento all'ospedale di Rovereto avvenuto per incompatibilità ambientale dopo che l'azienda sanitaria ha rilevato una situazione critica il reparto Gli avvocati della donna scrivono La dottoressa Meru si è volutamente tenuta lontana sino ad oggi dall'intenso dibattito mediatico e politico che l'ha messa in correlazione insieme ad altri con la dolorosa vicenda della scomparsa della dottoressa Sara Pedri che presso tale reparto ha brevemente collaborato Aggiungono che in tutti questi mesi sono apparsi dichiarazioni, interventi ed interviste anche da parte di colleghi e colleghe che presiedono organismi rappresentativi della categoria di medici che hanno contribuito ad alimentare un processo mediatico nei confronti in primo luogo della gestione di un reparto di eccellenza per la qualità del servizio ma anche dei professionisti come la dottoressa Meru che hanno contribuito alla crescita dello stesso svolgendo quotidianamente il proprio lavoro con grande dedizione passione e professionalità Gli stessi legali avvertono che in attesa di conoscere gli esiti delle indagini sarà nostra cura tutelare la reputazione della dottoressa Meru in ogni sede La lettera si chiude con un appunto Dall'azienda sanitaria, dalla magistratura o dall'ordine dei medici non è pervenuta alcuna notizia o comunicazione pertanto ogni speculazione in merito ad ipotetiche responsabilità o a debiti a carico della dottoressa Meru risulta ad oggi prematura e priva di qualsivoglia riscontro I carabinieri del NAS arrivano all'unità operativa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Trento il 28 luglio accompagnati dal direttore dell'ospedale Mario Grattarola e dai colleghi della polizia giudiziaria della procura Incaricati dalla PM, Licia Scagliarini hanno effettuato un sopralluogo nel reparto al centro della vicenda scoppiata dopo la scomparsa di Sara I carabinieri hanno effettuato una visita scrupolosa del reparto verificando ambulatori, sale, operatorie e documenti che attestano l'organizzazione dell'unità operativa Si cerca forse di ricostruire la vita all'interno del reparto La procura mantiene il riservo sull'inchiesta Stando in discrezioni però sembra che la magistratura voglia fare chiarezza non solo sulla scomparsa della giovane Sara ma anche sul presunto clima vessatorio all'interno del reparto emerso dalle testimonianze acquisite dalla commissione interna e sulle quali ora il sostituto procuratore Scagliarini vuole fare luce maltrattamenti E questa è l'ipotesi di reato che i carabinieri del NAS indicano nella procura di Trento in merito alla scomparsa di Sara Pedri La vicenda di Sara è diventata un caso nazionale grazie all'impegno della sorella Emanuele e del fidanzato alla ricerca della verità Quello della giovane ginecologa non è però l'unico caso contenuto nell'informativa dei NAS Sarebbero infatti almeno 14 tra medici e infermieri a essere stati presi di mira dal 1 gennaio 2018 dalla copia Tateo Meru con demanzionamenti e insulti Facciamo quindi un conticino semplice 2018 2019 2020 2022 4 anni ci sono persone che hanno lavorato in questo clima vessatorio tremendo per 4 anni e tra l'altro questo è un lavoro importante è un lavoro fatto di delicatezza secondo me perché comunque ha a che fare con delle donne incinte con dei bambini io sono davvero scioccata ci sono proprio rimasta male per il vaso di Pandora che ha scoperchiato la scomparsa di questa giovane ginecologa per questo i carabinieri hanno chiesto che i due dirigenti vengano iscritti nel registro degli indagati per maltrattamenti finalmente grazie a Dio qualcosa è emerso nei racconti Sara diceva di essere continuamente umiliata con ripetuti riferimenti al fatto che non sapesse fare nulla e che non fosse stata formata a dovere tutti aspetti sui quali per i NAS non ci sarebbero dubbi anzi è solo la punta di un iceberg di qualcosa di più grande in sala operatoria ci sarebbe stata sempre la Meru e alle colleghe o almeno ad alcune di loro diceva non capita niente siete delle cretine aggressioni verbali insulti che hanno fatto sentire le colleghe sempre più insicure messe da parte poi i turni ritoccati per favorire se stessa e forse altre elette la dottoressa Meru affiancata dagli avvocati Laura Tamilia e Franco Rossi Galante è stata sentita e ha presentato una memoria di oltre 20 pagine con 11 documenti allegati che analizzano e contestano tutte le accuse mosse alla dottoressa la difesa parla di evidenze documentali che smentirebbero il racconto talvolta contraddittorio dell'accusatrice di Meru i legali chiariscono inoltre che si tratta di contestazioni relative agli anni 2018-2019 e su quelle contestazioni come aveva osservato l'avvocato del primario Tateo Vincenzo Ferrante l'azienda sanitaria aveva già svolto verifiche non rilevando fatti gravi e direi che questo è un fatto gravissimo visto le condizioni in cui si trovava quel reparto io non riesco a immaginare di svegliarmi la mattina di fare un lavoro così importante che devi apprezzare per forza santo cielo e ritrovarti in un ambiente del genere come si fa? oltretutto i turni sono lunghi sono sfiancanti è un lavoro complicato è un lavoro che stressa già il lavoro è stressante di suo ma come si fa a campare? subendo tutti i giorni vessazioni insulti poi ma come ti permetti di dare ad un'altra tua collega comunque della cretina? ma il modo di comportarsi questo c'è davvero? e la cosa che mi lascia ancora più basita è che si parla dell'eccellenza di un'eccellenza qui sanitaria io sono senza parole vi giuro senza parole la commissione non avrebbe fatto cenno ai bisturi lanciati in sala operatoria o il famoso schiaffo dato a una collega di cui si è più volte parlato pare che si sia concentrata soprattutto sul clima intimidatorio che stando alla cosa Meru avrebbe contribuito a creare sugli insulti che la dottoressa ha negato con forza e sulla turnistica la difesa della dottoressa infatti ha precisato i turni non travalicavano mai le ore previste della contrattazione collettiva e comunque non erano il suo compito quanto per impegno convegne a cui Meru doveva partecipare c'era la necessità di modificarli veniva comunicato al responsabile della turnistica lei stessa doveva sottostare alle regole e dare la propria disponibilità non poteva in alcun modo intervenire insomma non ci sarebbe stata alcuna revisione della turnazione per favorire colleghe o se stessa e la difesa ha prodotto numerose email e documenti però qualcuno sembra che si sia trovato quasi bandito dalla sala operatoria sempre meno presente come primo operatore messo in discussione nella propria professionalità sempre a proposito della sua assistita l'avvocato Tamilia spiega è arrivata a Trento con un curriculum a livello nazionale e internazionale di grandissimo livello è una persona che si è fatta in quattro per insegnare a molte di queste persone nessuno è stato demansionato anzi è insegnato a molte di loro la robotica non si impara da un giorno con l'altro per quanto mi riguarda puoi essere anche un'ottima professionista se sei violenta con i tuoi colleghi a livello verbale sempre intendo non sto dicendo che la Meru le abbia preso a schiaffi ma se sei violenta le dà delle cretine non capite niente non siete in grado non sei una buona professionista secondo me mi spiace la difesa chiede l'archiviazione del procedimento e il reintegro in reparto della dottoressa Meru a luglio il trasferimento ad altro incarico deciso dall'azienda sanitaria trentina e poi stando a quanto riferito dal quotidiano l'adige il licenziamento chiesto dalla commissione di disciplina della stessa che deve però essere sottoposto al parere vincolante del comitato dei garanti intanto continua la bufera intorno a Saverio Tateo mentre l'avvocato Ferrante ha sintetizzato la sua posizione con una frase molto eloquente mi verrebbe da dire che in questa vicenda il perseguitato è lui bocca mia stati zitta andiamo avanti andiamo avanti di tutt'altro avviso è illegale della famiglia di Sara Pedri gentile che scrive in un post come si suol dire la pazienza è amara ma il suo frutto è dolce piccoli passi senza forzature con determinazione ma con rispetto per le persone e le regole mattone dopo mattone stiamo costruendo l'edificio della verità quanto mi piace questo passaggio quanto mi piace un uomo meraviglioso per le pazienti un medico capace di vessare i colleghi e mortificarli davanti a tutti è un ritratto alla dottor Jekyll e mister Hyde quello di Saverio Tateo che gli ispettori del ministero consegnano alla provincia autonoma di Trento il documento è l'esito del lavoro dei funzionari inviati dal ministro Speranza un lavoro certosino dal quale emerge un primo dato evidente ossia il totale scollamento tra l'attività professionale e il carattere del primario i fatti parlano chiaro il reparto per il ministero è di eccellenza non risulta alcun evento avverso e la stessa qualità delle cure è elevata le pazienti poi parlerebbero di Tateo come di un uomo meraviglioso le capite dove sta il problema? perché i colloqui con colleghi e personali raccontano un'altra verità i funzionari chiariscono come nel reparto salga una vera e propria richiesta di aiuto e di intervento per l'atteggiamento vessatorio che il professionista avrebbe avuto nei confronti di altri medici le carte riferiscono di episodi di mobbing e di ostruzionismo sul lavoro il primario avrebbe insultato i colleghi anche davanti ai pazienti e li avrebbe esclusi dalle sale operatorie con un'evidente mortificazione per i professionisti e non finisce qui il documento riferisce anche di orari extra richiesti da Tateo ai colleghi che venivano però lasciati a rigirarsi i pollici il reparto ma vi sembra normale? a me no ovviamente a nulla sono servite le lettere e le sollecitazioni che gli stessi medici sentiti hanno riportato negli anni agli organi competenti tutto è caduto nel vuoto e questa cosa mi fa incazzare come una iena l'avrete sicuramente intuito la dottoressa Liliana Meru, vice di Tateo, ha salutato i colleghi ed è in viaggio verso la Sicilia andrà a lavorare all'ospedale Canizzaro di Catania un centro specializzato negli interventi oncologici ginecologici è stato lo stesso ospedale siciliano a contattare la dottoressa Meru successivamente le due aziende sanitarie sembrano aver trovato un accordo per un trasferimento in comando si tratta di una specie di distacco di fatto Meru resterà le dipendenze dell'azienda sanitaria trentina ma lavorerà a Catania una soluzione che evidentemente soddisfa entrambe le aziende la commissione dei garanti lunedì 11 ottobre firma un provvedimento di 4 pagine che conferma la legittimità della decisione della commissione disciplinare dell'azienda sanitaria viene dato il via libera al licenziamento dell'ex direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia del Santa Chiara di Trento Saverio Tateo in riferimento all'inchiesta i garanti scrivono molteplici fatti di indubbia e rilevante gravità supportati da una cospicua documentazione le umiliazioni, le ginecologhe bandite dalla sala operatoria, colloqui al buio nello studio del primario illuminato solo dalla lampada da tavolo raccontati da alcune ginecologhe sentite dalla commissione disciplinare quei fatti di indubbia rilevanza e gravità non sono mai stati smentiti puntualmente è quanto si legge in uno dei passaggi salienti del provvedimento che sigla il licenziamento per giusta causa del dottor Tateo nel provvedimento si parla di vari episodi ripetuti e continuati nel tempo comportamenti illesivi della dignità del personale di cui era responsabile sintetizzando il primario avrebbe violato il dovere di perseguire il benessere organizzativo della struttura, di tenere atteggiamenti ispirati ai principi di lealtà e trasparenza nei confronti dei colleghi e collaboratori e di garantire la circolazione delle informazioni tra colleghi nel provvedimento disciplinare sono riassunte le 17 contestazioni con dichiarazioni di 15 testimoni il primo episodio risale al 18 ottobre 2018 risulta che durante un colloquio sui turni Tateo ha denigrato pubblicamente una collega minacciandola di provvedimenti disciplinari il 23 ottobre 2018 ha pronunciato la frase vanno eliminate fisicamente riferendosi ad alcune colleghe perché sono mele marce il 25 ottobre sempre durante un colloquio ha aggredito una dottoressa che racconta mi fu ripetutamente chiesto di presentare le dimissioni altre presunte aggressioni verbali risalgono a ottobre sempre nel 2018 durante le indagini un testimone ha raccontato non infrequentemente si sentono nel reparto e nella sala d'attesa del pronto soccorso ginecologico toni alterati del dottor Tateo provenienti dal suo studio pare che il medico abbia fatto richiesta di insonorizzare le pareti dello studio secondo l'accusa per non far sentire le urla stando alla difesa invece si tratta di una questione di privacy sempre a ottobre 2018 Saverio Tateo decide di bandire una ginecologa dalla sala operatoria l'ufficio disciplinare scrive vengono posti in essere comportamenti tesi consapevolmente a ingenerare dubbi sulle capacità professionali delle ginecologhe denigrandole anche in presenza di terzi un'altra dottoressa racconta minacciò di demanzionarmi l'ufficio disciplinare parla di ingiustificate limitazioni cliniche e sottrazione di competenze sembra che Tateo abbia cambiato atteggiamento nei confronti dei colleghi soprattutto dopo l'arrivo della vice Liliana Mereu una collega racconta talvolta si accanisce su certe persone senza plausibili spiegazioni altre volte crea favoritismi evidenti nell'atto in cui si raccontano alcuni episodi avvenuti tra il 2019 e il 2020 e si parla di sistematici e reiterati comportamenti aggressivi ostili e denigratori comportamenti di una gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro non ti nascondo che ci sono stati momenti piuttosto bui è un altro mondo tutto viene fatto diversamente da come ero abituata arrivo per la guardia di 12 ore e non mi alzo dalla sedia se non per fare la visita non bevo non mangio non faccio pipì considera che pranzo due volte a settimana quando non lavoro queste parole è chiaro che nascondono un profondo malessere e vengono diffuse dalla trasmissione di Ray 3 sono state trovate nel cellulare di Sara Pedri inviate all'amica Giovanna agli inizi dell'esperienza all'ospedale Santa Chiara a nove mesi dalla scomparsa di Sara e dopo l'apertura di due fascicoli l'inchiesta per maltrattamenti e abuso di mezzi di correzione e disciplina a carico dell'ex primario Saverio Tateo e della sua vice Liliana Mereu arriva una svolta il GIP Enrico Borrelli ha accolto la richiesta della procura e ha fissato l'udienza per febbraio si tratta di una sorta di anticipazione del processo fatta a tutela dei professionisti e delle professioniste che avrebbero subito le presunte vessazioni da parte dei due dirigenti medici tra gli obiettivi evitare quella che viene definita tecnicamente vittimizzazione secondaria ossia di far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato nelle aule di giustizia la testimonianza raccolta in sede di incidente probatorio con la garanzia del contraddittorio diventa fonte di prova in questo modo si evita di costringere le presunte vittime a dover ripetere le dichiarazioni più volte sono 21 le persone offese tra ostetriche, medici e infermieri identificate dalla procura e tra queste c'è anche Sara Pedri chiaramente i genitori e la sorella Emanuela attraverso il loro avvocato stanno seguendo l'evoluzione del procedimento penale tra le presunte vittime ci sono anche le sei ginecologhe che si sono rivolte agli avvocati De Bertolini e Manca e avevano parlato di vessazioni mortificanti la difesa del primario che è stato licenziato e della sua vice attualmente in forza a un'altra struttura in Sicilia rappresentata dagli avvocati Scuto e Rossi Galante ha sempre respinto con forza le accuse l'avvocato della famiglia Pedri afferma è un momento molto importante con la garanzia del contraddittorio potremmo sentire una serie di persone che hanno operato in quell'ambiente ciascuno protagonista di questa tristissima e disperata vicenda una vicenda complicata di lavoro e rapporti umani è una verifica importante e questo rafforza il dato che non eravamo dei visionari e che quel reparto non era l'isola felice che tutti pensavano e aggiunge questo incidente probatorio conferma quanto emerso nel rispetto delle persone e soprattutto nel rispetto della verità e della giustizia alcuni degli ultimi pensieri di Sara raccolti e analizzati nella perizia psichiatrica che la famiglia ha depositato alla procura di Trento sono molto forti la ragazza scrive sono una morta che cammina questa volta non ce la farò un insieme di messaggi, email e registrazioni vocali inviate su whatsapp che restituiscono il quadro di grande sconforto nel quale era caduta la ragazza in uno dei suoi ultimi messaggi ha scritto al papà chiedo scusa io a voi per la delusione che vi ho procurato nella relazione che la madre di Sara assistita dall'avvocato gentile ha affidato alla psicologa Gabriella Marano emerge l'immagine di un agnello in mezzo ai lupi sbranata dalla violenza di chi si è avventato contro di lei nel referto di 119 pagine viene identificata la casistica del quick mobbing come causa dello stato di forte turbamento vissuto dalla ragazza vale a dire comportamenti vessatori frequenti e costanti posti in essere con lo scopo e l'effetto di violare la sua dignità di donna e lavoratrice e di creare intorno a lei un clima intimidatorio ostile e degradante viene sottolineata l'eccezionalità e la violenza della portata che in soli tre mesi ha minato il suo equilibrio generando in lei un vero e proprio disturbo identificato poi come disturbo traumatico da stress con sintomi ricorrenti riconducibili alla depersonalizzazione dall'analisi del pc di sarapedri scandagliato dalla psicologa ha inoltre emerso che la mattina presso del giorno in cui è scomparsa il 4 marzo alle ore 6 e 16 la donna ha cercato su internet le parole chiave ponte santa giustina ponte lago santa giustina lago santa giustina ha inoltre visualizzato ponte di castellaz e ha visitato quattro ponti sommersi in val di non che dovresti conoscere e la sua autovettura è stata trovata proprio vicino al ponte di mostizzolo al confine tra i comuni di clays e di cis che sovrasta il torrente noce una zona questa conosciuta proprio per fare il drammatico gesto cita la perizia di seguito vi leggo una breve intervista fatta proprio alla dottoressa che ha effettuato l'autopsia psicologica di sara dottoressa marano dall'autopsia psicologica di sara pedri emerge un nesso causale tra le possibili condotte vestatorie subite dalla ginecologa all'interno del reparto e la scomparsa della giovane? risposta assolutamente sì la disfunzione patologica del disturbo post-traumatico da stress che siamo arrivati a diagnosticare è in sorta successivamente a quanto subito da sara nel reparto del santa chiara è dunque da mettersi in stretta relazione causale con quei fatti altra domanda la perizia aggiunge alla conclusione che la ginecologa di forlì è stata vittima di mobbing sul lavoro com'è arrivata a questa ipotesi? risposta abbiamo analizzato la vita di sara negli ultimi tre anni tutto porta a dire che qualcosa è nato e si è sviluppato nei tre mesi e mezzo trascorsi a trento a partire da agosto fino al momento del deposito della perizia in procura abbiamo analizzato oltre 20.000 pagine di messaggi whatsapp email, telefonate della giovane ginecologa e abbiamo sentito 15 testimoni per ricostruire la storia clinica le relazioni sociali, amicali e lavorative della persona sono stati ascoltati l'ex fidanzato, il fidanzato, le colleghe di Catanzaro l'amica storica che ha visto sara crescere ma anche la vicina di casa a Ferrara dove sarà vissuto nel periodo universitario ma il super testimone di questa vicenda è proprio Sara Pedri è lei che ci spiega attraverso un'imponente messaggistica che cosa accadeva in reparto è lei che si racconta attraverso i suoi sintomi altra domanda quali sintomi l'hanno portata a diagnosticare il disturbo post-traumatico da stress? Sara era diventata inappetente aveva disturbi della sfera del sonno, tachicardie, cefalea, tremori un dolore fisico che la portava ad abbracciarsi il corpo se fosse andata da uno specialista avrebbe sicuramente individuato il suo disturbo altra domanda l'autopsia paragona Pedri a un agnello in mezzo ai lupi sbranata dalla violenza di chi si è avventato contro di lei il riferimento è ai vertici del reparto? risposta ciò che Sara ha subito sembra attribuibile al primario Savero Tateo e alla sua vice Tatiana Mereu nella perizia abbiamo riportato diversi episodi l'episodio dello schiaffo che Sara ricevette sulla mano in sala operatoria la volta in cui alla giovane venne chiesto di rimanere in reparto oltre l'orario di lavoro salvo poi essere lasciata nella stanza sola fino alle 20 senza che nessuno si presentasse oppure quella volta in cui il contenuto dell'armadietto di Sara venne svuotato e riversato nel bagno perché quello spazio sarebbe servito ad altro modalità assolutamente poco dignitose altra domanda qual è stato il momento deflagrante? l'episodio dello schiaffo è stata probabilmente l'azione psicotraumatizzante che ha mandato in tilt Sara Pedri da quel momento per lei è iniziata una discesa negli inferi della dottoressa specializzata sia Catanzaro ricorda che era una ragazza emiliano romagnola educata era una specialista da poco tempo la sapevo sola in Trentino e per di più durante la seconda ondata di Covid per questo le avevo dato dei turni che la lasciavano libera ai fine settimana e ai festivi nei 59 giorni in cui è rimasta in reparto aveva fatto solo due notti di cui una in sostituzione di un'altra collega che si era ammalata ho avuto poco tempo per conoscerla meglio perché è rimasta con noi poco poi è andata a Clays la prima sede di ospedale che aveva scelto aggiunge inoltre di aver notato il dimaldimento della ragazza che però aveva risposto con un cenno di circostanza tanto che quando il 4 marzo scorso venne a sapere della scomparsa di Sara Pedri è rimasto sbigottito pensai che fosse successo qualcosa e che si sarebbe risolto questo dice Tateo il primo febbraio 2023 la procura di Trento finalmente ha chiuso le indagini a carico di Saverio Tateo e della sua vice Liliana Mereu per loro è stata confermata l'accusa di maltrattamenti che entrambi hanno respinto rispetto all'iniziale ipotesi di maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione e disciplina le contestazioni riguardano ora esclusivamente i maltrattamenti le parti offese sono 21 tra cui compare anche Sara Pedri tra ginecologhe, ostetriche e infermiere che lavoravano o hanno lavorato nel reparto di cui la PM Licia Scagliarini e la collega Maria Colpani hanno ascoltato le testimonianze l'accusa parla di ingiurie intimidazioni atteggiamenti denigratori e inquisitori pare che alcune ginecologhe siano state minacciate di sanzioni disciplinari ma la procura parla anche di vessazioni motivate da ragioni di risentimento e non giustificate da errori professionali per ogni vittima vengono contestati 7 o 8 episodi il clima che si respirava il reparto è stato definito da una dottoressa insalubre questo è ciò che si sa per ora di questo caso che onestamente mi ha lasciata senza parole sicuramente vi terrò aggiornati per quanto riguarda il processo e le pene che verranno inflitte se verranno inflitte e io onestamente spero proprio di sì detto questo io ho finito di parlare in questo video spero ovviamente che questo caso possa essere stato per voi interessante lo conoscevate e fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti lo dico in ogni video ci becchiamo nei commenti detto questo io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti 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 ciao a tutti